E' la sinergia perfetta tra due mondi e l'unione tra l'eccezionale ergonomia delle termocamere FLIR serie T e l'indiscussa qualità del detector della nostra termocamera FLIR serie P. Presentiamo oggi le nuove FLIR T640 e FLIR T620, le migliori termocamere professionali esistenti sul mercato, una novità firmata FLIR. Grazie all'unità lenti inclinabile, caratteristica di successo delle termocamere FLIR serie T, puoi ottenere le inquadrature che ti servono da qualsiasi angolazione, in modo estremamente semplice ed ergonomico. Dotata del migliore detector a infrarossi nella sua categoria, fornisce immagini eccezionalmente nitide e misurazioni di temperatura dettagliate ed accurate, oltre ad una fotocamera digitale da 5 megapixels per immagini di alta qualità. Il nuovo e ampio touchscreen ti permette di accedere facilmente alle principali funzioni di misura per analizzare le immagini radiometriche. E se questo non basta, le termocamere FLIR T620 e FLIR T640 dispongono di connessione Wi-Fi integrata, che abbinata alla nuova applicazione FLIR Viewer per iPhone o iPad, ti consente di importare le immagini dalla termocamera, analizzarle e creare dei report da visualizzare sul posto o inviare successivamente tramite e-mail. È sicuramente un modo efficace per suscitare un grande interesse. Entrambi i modelli sono dotati di tutte queste funzionalità e molte altre ancora. Scegliendo la termocamera FLIR T640 avrai il vantaggio di misurare temperature fino a 2000 gradi, oltre ad avere un oculare a colori integrato, che rende più agevole le ispezioni in condizioni di elevata luminosità. Per ulteriori dettagli relativi a queste straordinarie termocamere, visita il nostro sito o contattaci oggi stesso. Nuove FLIR T640 e FLIR T620, le migliori termocamere professionali esistenti sul mercato in termini di prestazioni, risoluzione ed ergonomia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.